Gli agricoltori sono le prime sentinelle dell'ambiente e della natura, motivo per cui il Partito Popolare Europeo vuole sostenere un Green Deal che abbia come obiettivo quello di far sì che le sfide siano concrete, praticabili. Allora la sostenibilità ambientale va declinata non solo dal punto di vista ambientale, non deve avere una declinazione ideologica ma deve considerare anche quelle che sono le declinazioni sociali, economiche e produttive. Un grande appuntamento quello di Partito Popolare qui a Bruxelles per chiamare a raccolta gli agricoltori che vogliono essere protagoniste nella lotta ai cambiamenti climatici. Hanno già fatto grandi passi, possono farne ancora altri ma vanno accompagnati e non demonizzati.